Sono indagati, come abbiamo letto da tutti i giornali, l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza e poi Attilio Fontana, Giulio Gallera, ma non solo, ci sono anche Brusaferro, Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, c'è un'indagine, sono indagati per la mancata zona rossa in Lombardia. Che sensazione hai avuto quando hai visto che la Procura ha deciso di indagare loro, che stavano affrontando a diverso titolo una pandemia che non conoscevamo, che siamo stati i primi a dover affrontare? Ma io quando si fanno delle indagini per scoprire che cosa è successo e se qualcuno ha commesso dei reati, perché poi questa è la funzione delle indagini, sono sempre felicissimo se si raccolgono documenti, anche con i mezzi invasivi che ha la magistratura, di sequestrare carte, di acquisire chat, di far venire fuori cose retroscene, io sono sempre contento. Infatti ieri ho deciso di scrivere, non perché era uscita la notizia, tra l'altro anticipata dal Fatto Quotidiano, di questa conclusione dell'indagine di Bergamo, sulla quale mi riservo ovviamente di leggere le carte quando saranno a disposizione. Ho deciso di intervenire perché ho letto un'intervista del procuratore di Bergamo, Schiappani, che mi ha lasciato un po' esterrefatto, perché sembra non credere nemmeno lui alla cosa più importante di questa indagine. Badate, l'avviso di conclusione delle indagini si deposita insieme a tutti gli atti quando si intende chiedere il rinvio a giudizio degli indagati. Se invece si intende chiederne l'archiviazione, si chiede l'archiviazione. La norma della cartabia impone ai magistrati di depositare solo gli atti a carico di persone sulle quali ci sono ottime possibilità di arrivare a una condanna, non solo a un rinvio a giudizio. Quindi il fatto che il procuratore da un lato deposita tutto, a carico di tutti, sono una ventina, e dall'altro lato dice che anche lui ha l'impressione che l'indagine verrà molto ridimensionata in sede di udienza preliminare e di Tribunale dei Ministri, perché Conte e Speranza non sono equiparabili a Fontana e Gallera. Fontana e Gallera, non essendo ministri, non rispondono di reati ministeriali e quindi non sono giudicati dal Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri è giudicato, sono sempre dei magistrati, che però devono fare loro le indagini. La legge prevede che quando il reato è ministeriale e la procura omessa ogni indagine trasmette gli atti. Quindi le posizioni non sono uguali, perché due rispondono di reati ministeriali. Conte della mancata zona rossa in Val Seriana, speranza del mancato aggiornamento del piano pandemico che era fermo al 2006, quindi molto prima che arrivasse lui, e della mancata attivazione del piano pandemico. Fatta questa premessa, a me ha lasciato perplesso l'intervista del procuratore, perché se nemmeno il procuratore crede nella solidità della sua indagine e dice deposito comunque tutto, anche le responsabilità sociologiche, morali, politiche, amministrative, eccetera, per rispetto delle vittime. E attenzione, per rispettare i parenti delle vittime, che piangono da tre anni i loro morti e chiedono giustizia, bisognerebbe spiegargli che il processo penale può arrivare soltanto fin qua. Non può arrivare a coprire tutte le responsabilità morali. Perché? Perché se poi quell'indagine non è solida, come lo stesso procuratore sembra far capire, e verrà decimata in sede di udienza preliminare o di tribunale dei ministri con assoluzioni, proscioglimenti e archiviazioni, poi le vittime avranno un dolore e una frustrazione in più, perché tu gli hai mostrato degli scalpi molto famosi, che poi le vittime vedranno scomparire.